Antonio Battista continuerà a ricoprire la carica di primo cittadino di Campobasso a deciderlo i giudici del Tribunale Amministrativo che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal Movimento 5 Stelle. I carabinieri di Larino hanno arrestato due italiani per un'estorsione ai danni di un cittadino frentano. L'operazione avviata a febbraio scorso aveva già portato all'arresto di altri due uomini attualmente detenuti nel penitenziario cittadino. Il governatore Frattura ha replicato alle polemiche scaturite dalle ultime dichiarazioni di Zingaretti circa l'imminente arrivo di un commissario. Mi auguro che il Molise possa uscire dal piano di rientro con le proprie forze e il suo commento. In casa Termoli continuano i colpi di scena Marcello Casu e il nuovo allenatore dei giallorossi. Il tecnico Sardo sarà affiancato da Bellomo che svolgerà il ruolo di preparatore dei portieri mentre Alfredo Padovano sarà il nuovo direttore sportivo. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Antonio Battista resta in sella. Questa è la decisione del Tar Molise che ha dichiarato inammissibili due ricorsi a ferma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Soddisfatto illegale Salvatore Di Pardo. Vediamo. Antonio Battista continuerà a ricoprire la carica di primo cittadino di Campobasso a stabilirlo i giudici del Tribunale amministrativo del Molise che hanno dichiarato inammissibili ricorsi presentati dal Movimento 5 Stelle che aveva chiesto di andare al ballottaggio tra l'attuale sindaco e Roberto Gravina dopo il riconteggio dei voti tra i candidati alla carica di primo cittadino. A presiedere l'udienza svoltasi nella tarda mattinata di ieri il giudice Antonio Norato, il consigliere Luca Monteferrante e il referendario Domenico De Falco. L'attesa decisione dell'organo di giustizia di primo grado è dunque arrivata ad esprimere soddisfazione illegale di Antonio Battista Salvatore Di Pardo. In realtà eravamo fiduciosi sull'essere ricorso sia perché conosciamo la grande professionalità e competenza del TAR Molise in materia elettorale, un TAR sicuramente avanti rispetto agli altri, le sue pronunce sono sempre confermate dal Consiglio di Stato, sia perché onestamente la volontà popolare in questo caso era chiara. Battista aveva vinto con uno scarto notevole per cui anche quella richiesta di riconteggio ci sembrava poco pertinente. Un ottimo risultato, frutto di un lavoro di squadra e di un attento studio di una materia insidiosa, è il commento dell'Avvocato Latessa. I giudizi in materia elettorale sono molto complessi e quindi è necessario che ci sia un pool dietro che segue tutto il procedimento elettorale, che ha delle scadenze e termini molto rapidi. Quindi o si è in tanti e preparati sulla materia, altrimenti è difficile eseguire, non ci si può improvvisare su questi giudizi. In merito all'approvazione in prima commissione consigliare del testo che definisce il nuovo assetto dell'Eres, l'ente regionale per l'edilizia sociale, si è espresso il capogruppo del PD Francesco Totaro. La nuova proposta di legge, che andrà prossimamente al vaglio del Consiglio regionale, prevede la presenza di uffici dell'Eres sui territori di Campobasso e Isernia, che assicureranno il funzionamento delle attività gestionali e amministrative dell'ente, sempre tenendo in cima ai propri obiettivi le esigenze abitative dei nuclei familiari che versano in condizioni svantaggiate. Ha poi precisato il presidente della prima commissione Totaro. Un importante e consistente taglio, infine, è stato previsto nella struttura dirigente, che vedrà la guida dell'ente, un presidente e un direttore generale, mentre il personale sarà automaticamente trasferito dagli ACP, che con l'entrata in vigore della legge saranno soppressi. Ed ora la cronaca. I carabinieri di Larino hanno arrestato due italiani per un'estorsione ai danni di un cittadino frentano. L'operazione, avviata a febbraio scorso, aveva già portato all'arresto di altri due uomini attualmente detenuti nel penitenziario cittadino. Vediamo. È stata brillantemente portata a compimento dai militari dell'arma di Larino un'operazione anti-estorsione, partita lo scorso febbraio, quando un cittadino frentano ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine dopo aver subito reiterate minacce da parte di alcuni individui. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati tratti in arresto gli altri due italiani di 46 e 48 anni che hanno partecipato al tentativo di estorsione dopo quelli già arrestati nel mese di febbraio scorso e attualmente detenuti nel penitenziario di Larino. La stazione di Larino che ha recepito la notizia di reato si è attivata immediatamente e, devo dire, con estrema tempestività è riuscita a individuare gli esattori proprio nel momento in cui aveva luogo la prima riscossione. Si trattava, peraltro, di una rata. Questo è importante perché dava come indicatore che il fenomeno fosse reiterato. I primi due sono stati arrestati a febbraio, forse questo lo ricorderete, con una cattura in flagranza avvenuta alla stazione ferroviaria. Dopodiché, devo dire con metodo di intelligenza, la stazione ha proseguito nelle indagini, quindi non contenta dell'arresto in flagranza, ha proseguito, ha approfondito meglio il caso ed effettivamente è divenuta a ricostruire tutta la vicenda. Si è trattato di un'estorsione portata da quattro elementi, tutti soggetti con trascorsi giudiziari anche significativi per questo territorio, i quali hanno attirato in un agro campestre la vittima e, in quella sede, attraverso un metodo che ha denotato dimestichezza nell'ambito estorsivo, sono riusciti praticamente a convincerla a pagare, naturalmente intimandole di non avvisare le forze di polizia. Fortunatamente la vittima si è fidata dei carabinieri e è venuta a denunciare il fatto e questo ha attivato in prima battuta la situazione che ha consentito l'arresto dei soggetti della stazione ferroviaria e successivamente ha permesso di far emergere significativi elementi che poi hanno portato alla redazione dell'informativa conclusiva e quindi all'individuazione della responsabilità anche degli altri due. Sono dunque quattro gli italiani finiti nella morsa della giustizia, compresi gli ultimi due arresti, un fenomeno isolato, quello dell'estorsione addetta dei militari dell'arma che descrivono Larino come un'isola felice sotto questo punto di vista, ma raccomandano l'importanza di denunciare sempre episodi di questa tipologia in maniera tempestiva per agevolare così il lavoro investigativo delle forze dell'ordine. Il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza con la quale la dottoressa Minervini era stata sospesa dal proprio incarico per due mesi dopo il blitz dei NAS per assenteismo presso il poliambulatorio di Montenero di Bisaccia. La dottoressa quindi potrà rientrare al lavoro senza restrizioni, mentre il medico d'ascenso resta agli arresti domiciliari. Libero invece, ma ancora sospeso dal lavoro, l'autista Antonio Irace. E ancora Sanità hanno fatto discutere le dichiarazioni del governatore del Lazio Zingaretti circa un imminente commissariamento del governatore del commissario Frattura. Il presidente del Lazio ha poi replicato cercando di ridimensionare il caso precisando come nelle sue parole non ci fosse alcun riferimento all'operato del presidente della regione molise. Paolo Di Laura Frattura, persona che stimo e ammiro. Vediamo. La sanità molisana e il suo disavanzo continuano a far discutere, a tirare in ballo il caso molisano anche il governatore del Lazio Zingaretti che durante una seduta alla Pisana aveva dichiarato siamo in un momento in cui nel patto per la salute che è stato sottoscritto è riaffiorato che i commissari alla sanità che si decidono da luglio in poi e credo che la prossima regione sarà il molise, non saranno neanche i presidenti delle regioni. Parole che hanno generato non poche polemiche e che sono state interpretate come una sorta di anteprima sull'imminente sostituzione di Frattura come commissario alla sanità molisana. Visto il gran polverone sollevato, il presidente del Lazio ha provato a ridimensionare il caso precisando che nelle sue dichiarazioni non c'era alcun riferimento all'operato del presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura, persona che al contrario ha precisato stimo e ammiro. Zingaretti dunque, secondo quanto da lui stesso precisato nel corso di un intervento che aveva come oggetto il rapporto tra il commissario alla sanità e il consiglio regionale, avrebbe semplicemente citato quanto previsto nel disegno di legge statale Stabilità 2015 per l'attuazione del patto della salute in discussione alla Camera, in cui si legge nero su bianco che le future nomine a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario saranno incompatibili con l'affidamento o la preesecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Da segnalare anche la battaglia in commissione bilancio della Camera sull'articolo 40 della legge di stabilità che prevede lo stanziamento di 40 milioni al Molise per pagare parte del debito sanitario. Forza Italia e Lega Nord ne hanno chiesto la soppressione, ma fortunatamente l'emendamento è stato respinto. Mi auguro che il Molise possa uscire dal piano di rientro con le proprie forze e il commento del governatore Frattura a margine di un incontro a Isernia. Il fatto della salute prevede per le nomine dei commissari da luglio 2014 l'incompatibilità tra il ruolo di amministratore e quello di commissario. Sul tema del commissariamento del sottoscritto, il contenzioso con il tavolo tecnico ormai risale a inizio anno, mi auguro che il Molise possa avere il tempo necessario per dimostrare che questa regione è in grado di venire fuori dal piano di rientro con le proprie forze, con le proprie idee e con la sua voglia di dimostrare la qualità che la sanità in questa regione, che per la sanità in questa regione siamo in grado in condizione di offrire ai cittadini. Ancora cronaca, apprensione a Mafalda, dove nella serata di ieri è scomparso un cinquantenne. Secondo alcune indiscrezioni del vicinato, pare che ultimamente l'uomo non andasse d'accordo con la propria famiglia. Dare l'allarme ai carabinieri di Montenero di Bisaccia sono stati proprio i vicini di casa e con l'arrivo della notte è cresciuta la preoccupazione. Sulla vicenda stanno indagando i militari dell'arma che hanno avviato immediatamente le ricerche. E parliamo ora di sicurezza nelle scuole perché se ne è discusso all'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso in occasione della dodicesima giornata nazionale organizzata da Cittadinanza Attiva. Vediamo. Al via oggi le celebrazioni per la dodicesima giornata nazionale della sicurezza nelle scuole promossa dall'associazione Cittadinanza Attiva. Tante le iniziative in regione che hanno coinvolto gli alunni. In mattinata le classi terze dell'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso hanno incontrato i rappresentanti del movimento unitamente al comandante dei vigili del fuoco di Campobasso, al presidente dell'Ordine degli Ingegneri e il segretario nazionale dell'Ordine dei Geologi, Pier Federico De Pari. In un paese che è afflitto purtroppo da calamità naturali e quindi da problemi di esondazione, di frana e di terremoto, l'unica strada giusta è quella ovviamente della prevenzione, sulla quale ciascuno nel ruolo che ricopre deve dare del suo e deve in qualche modo fare questo processo di disseminazione della conoscenza che è fondamentale per le azioni di prevenzione. Al centro della giornata i temi della sicurezza a scuola e della gestione delle emergenze naturali. La conoscenza unita a un'adeguata prevenzione può fare la differenza alle parole del comandante dei vigili. Il convegno di oggi sulle alluvioni, quindi il rischio alluvionale e il rischio sismico, quando mai è attuale per quanto riguarda le alluvioni, visti i casi di Genova, ma il rischio sismico noi abbiamo il tragico esempio della scuola di San Giuliano del Molise. Quindi affronteremo in maniera specifica queste due tipologie di rischi, come pure il rischio di incendio, cercando di dialogare con i ragazzi e far comprendere meglio loro quelle che sono tutte le azioni di prevenzione. Sottolineata anche l'importanza di redigere non piani di emergenza fotocopia, ma calibrati a reale rischio che ciascun istituto e territorio presenta. Restiamo in argomento. Questa mattina a Esernia gli studenti delle scuole superiori hanno scioperato per chiedere scuole più sicure dopo l'episodio che ha visto il crollo di alcuni calcinacci dal soffitto dell'istituto Vincenzo Cuoco. Una delegazione di studenti ha poi raggiunto il presidente della provincia Luigi Brasiello. Vediamo. Non si placano gli animi degli studenti del magistrale Vincenzo Cuoco di Esernia. dove nei giorni scorsi i laterizi e frammenti di cartongesso sono caduti dal soffitto di un corridoio dell'edificio. I ragazzi dell'istituto Pentro hanno infatti deciso di protestare per avere una scuola più sicura, coinvolgendo gli studenti delle altre scuole superiori di Esernia. Un lungo corteo che ha percorso le strade cittadine per poi giungere al palazzo della provincia di Esernia, dove una delegazione di studenti è stata ricevuta da Luigi Brasiello nella sua duplice veste di sindaco e presidente della provincia. Non solo ragazzi, ma anche personale scolastico e genitori che hanno chiesto a gran voce le dovute verifiche alla struttura per evitare drammi irreparabili. Praticamente un po' di giorni fa, anche nella mia classe, sono stati rivelati degli scricchioli, si sentivano degli scricchioli e l'abbiamo detto alla preside e ci hanno preso per pazzi, dicendo che noi avevamo delle allucinazioni. Un po' di giorni fa, lunedì mattina, è caduto il soffitto, è venuto l'ingegnere in classe nostra e ci ha detto che la classe era agibile. Per fortuna dopo è venuta la vicepreside e ci ha spostato in biblioteca. Una manifestazione pacifica ed efficace è quella che ha bloccato il centro del capologo Pentro per qualche ora, ma l'attenzione resta alta, anche se le rassicurazioni in merito alla messa in sicurezza dell'istituto da cui è partita la protesta sono giunte immediatamente. Abbiamo già fatto un primo sopralluogo e abbiamo potuto verificare con i tecnici che non si tratta di un problema strutturale, che era la cosa che ovviamente ci interessava di più, ma di un banale problema facilmente risolvibile con una controsoffittatura, l'intelaiatura di tutte le mattonelle che sono, i foratini, i mattoni forati che sono nella parte inferiore del tetto. Quindi si provvederà immediatamente entro Natale a mettere tutto il sito in sicurezza. Sottoscritto l'accordo di programma quadro riparazioni funzionali che interessa 32 comuni per 162 interventi finanziati per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. A renderlo noto il consigliere regionale delegato alla ricostruzione Salvatore Ciocca, in 15 mesi, si legge nella nota del consigliere, siamo riusciti ad impegnare completamente la dotazione economica di 7 milioni e 458 mila euro, ad ulteriore conferma di quel percorso di concretezza che ha portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Un lavoro importante di squadra che ha coinvolto anche la struttura regionale, che precede il prossimo step, e cioè la ferma dell'accordo più corposo sotto il profilo degli interventi e delle risorse da impegnare prevista per la fine di dicembre. Ha concluso così il consigliere Ciocca. E si è tenuta a Isernia la prima assemblea dei sindaci della provincia Pentra in vista della stesura del nuovo statuto. Nel corso della riunione, il presidente Brasiello ha segnato le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza. Vediamo. Convocata per la prima volta dal presidente Luigi Brasiello, l'assemblea dei sindaci della provincia di Isernia. Due punti in agenda, l'insediamento dell'assemblea e la discussione sull'iter finalizzato alla stesura e alla relativa adozione dello statuto provinciale. Nel corso dell'incontro, il numero uno dell'ente di via Berta ha anche assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza. Decisione immediatamente contestata dal senatore del nuovo centrodestra, Ulisse Di Giacomo, dal momento che le province sono prossime alla scomparsa. Il presidente Brasiello trovi piuttosto i fondi per il riscaldamento. Su questi fatti ridicoli presenterò un'interrogazione parlamentare. Ma il presidente della provincia ha apparso fiducioso sulla possibilità di incrementare le risorse dell'ente, grazie all'aiuto della regione. Dobbiamo aspettare sempre quella fase di passaggio, quella che stiamo vivendo da oggi fino alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo, nella quale dovremo aspettare le deleghe che ci saranno date dalla regione molise. Deleghe e risorse economiche. Presenti all'incontro anche il governatore Frattura, che ha rassicurato gli amministratori dei comuni della provincia Pentra. Lavorando in sinergia è possibile affrontare le problematiche in questione. Stiamo cercando di costruire insieme un percorso di accompagnamento, perché le risorse sono poche per tutti. Cosa diversa se quelle poche risorse le finalizziamo con la partecipazione e la decisione di tutti. Il presidente della provincia di Isernia, Luigi Brasiello, è inoltre palesato la propria percezione positiva in merito alle decisioni del governo centrale sul futuro delle province. Dopo aver fatto i conti con le oggettive difficoltà vissute nella gestione di servizi da parte degli enti, senza le risorse adeguate. Io ero abbastanza scettico qualche tempo fa, ho detto le province sono in fase di liquidazione, le chiuderanno. Oggi, se dovessi ritornare su questo argomento, ci andrei cauto, perché ho la vaga sensazione che a Roma le cose stiano leggermente cambiando. Ed ora la cronaca. Dieci persone sono state denunciate dai carabinieri di Isernia nel corso di controlli predisposti su tutto il territorio della provincia. a Montaquila, un 25enne del posto, è stato denunciato per minaccia aggravata e danneggiamento. Il giovane, per futili motivi, ha prima proferito gravi minacce nei confronti di un'anziana nonna e poi gli ha distrutto una finestra dell'abitazione. A Capracotta, denunciato un trentenne del posto per lesioni personali, l'uomo ha aggredito un quarantenne del luogo procurandogli alcune contusioni al volto. A Monteroduni, Santa Maria del Molise, Frosolone, Carpinone e Isernia, i militari delle stazioni territorialmente competenti nell'ambito di accertamenti presso cantieri edili e attività commerciali, hanno denunciato sette persone per inosservanza le norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché per sfruttamento di lavoratori in nero. E in attesa del rinnovo della rappresentanza sindacale e aziendale interna allo stabilimento Fiat di Termoli, questa mattina il segretario regionale della FIM CISL Molise, Riccardo Mascolo, ha convocato presso la sede CISL di Termoli il direttivo e il collettivo dell'organizzazione metalmeccanica. Importanti novità sono state illustrate nel corso dell'incontro. Vediamo. Direttivo e collegio della FIM CISL Molise convocati questa mattina dal segretario regionale dell'organizzazione metalmeccanica Riccardo Mascolo per fare il punto della situazione sulla programmazione interna al sindacato in vista delle elezioni della rappresentanza sindacale e aziendale che si terranno a gennaio. Nel corso della riunione, che vede in agenda l'approvazione del bilancio preventivo 2015, sono state illustrate le principali novità che interesseranno lo stabilimento Fiat di Termoli. Mi pare che finalmente si sta concretizzando quello che noi ci stiamo auspicando da diversi anni, cioè l'allocazione di nuovi prodotti e quindi dare la possibilità a questo stabilimento di una continuità lavorativa e produttiva. Per quanto concerne la SEVEL, buone notizie giungono sul fronte occupazionale. Sembrerebbe infatti che fino al 2027 sia garantita la collaborazione con il gruppo FCA. Mi pare che sia stato un accordo che fino al 2027 ci sia la continuità di collaborazione tra Fiat e PSA, quindi la Franci, francesi, di collaborazione appunto di ricostruire un nuovo furgone. Quindi questo permetterà di avere una continuità duratura e lunga negli anni, ma di incrementare appunto i prodotti nuovi e quindi il nuovo furgone, come dicevo, dando la possibilità di stabilizzazione agli attuali lavoratori se non addirittura incrementare i livelli occupazionali. Dunque è un lavoro, quello portato avanti dal sindacato, che sta dando i frutti sperati nel segno della programmazione della continuità lavorativa. Per tale ragione il segretario regionale della FIM, CISL, ha chiarito le motivazioni alla base della mancata adesione allo sciopero congiunto dei sindacati in programma per domani 22 novembre. Ci sembra in opportuno e anacronistico manifestare in un momento che le parti sociali, come dicevo, si devono mettere al tavolo per confrontarsi con il governo, con lo Stato, per cercare di trovare soluzioni positive. Scioperare oggi significa insomma non affrontare la realtà e il problema. Novità allo zuccherificio del Molise e da indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Sembrerebbe esserci un nuovo interessamento da parte della Royal Cousin, cooperativa olandese, che già nel 2013 aveva intenzione di acquistare lo stabilimento di Pantano Basso. Se queste voci non fossero provate, allora si andrà avanti con un nuovo bando comunitario che potrebbe prevedere le manifestazioni di interesse entro febbraio e il terminale finale a marzo 2015. Inoltre sul fronte confezionamento e via di perfezionamento l'accordo con la nuova società che riporterà il marchio dello zuccherificio del Molise in vendita al dettaglio. E cambiamo decisamente argomento. Oggi 21 novembre ricorre la Festa dell'Albero, tante le iniziative in regione che hanno visto il coinvolgimento di studenti e la piantumazione di giovani alberi. Vediamo quelle organizzate dal Comune di Campobasso e dall'Associazione Fare Verde. Il Comune di Campobasso ha aderito alla Festa dell'Albero con una serie di iniziative e tra queste la piantumazione di vari alberi nel parco di Viale Manzoni. La Festa dell'Albero è una festa molto importante. Il 21 novembre è festa nazionale stabilito dalla legge. Lo stabilisce proprio la norma 10 del 2013. È una festa molto antica nella realtà perché risale a più di un secolo fa. Nel 1898 l'allora ministro della pubblica istruzione decise che doveva essere celebrata questa festa nazionale dell'Albero. Poi negli anni è stata nel 79 delegata alle regioni per poi arrivare a questa legge 10 del 2013 che è una legge molto importante perché parla dello sviluppo degli spazi verdi urbani in accordo con il protocollo di Chioto e quindi finalmente il Comune di Campobasso durante molti anni che non lo faceva organizza direttamente questa festa nazionale degli alberi per sensibilizzare i cittadini in particolare i giovani all'importanza degli alberi nella qualità della vita. Entusiasti i piccoli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale Gino Petrone che hanno vivacizzato la festa con riflessioni e poesie. Che è allora oggi è la festa dell'albero che cosa hai imparato? Che gli alberi ci aiutano nella vita che puliscono l'aria non prevedono le frane sono molto importanti voi li trattate bene gli alberi? Sì quasi sempre alcune volte capita di trattarli male per esempio quando ci arrampichiamo gli facciamo del male perché ovviamente li distruggiamo e anche perché non li trattiamo bene facciamo come se non esistessero. Importante il lavoro svolto dai docenti che hanno spiegato loro la funzione ecologica e sociale degli alberi nella vita della città. A celebrare la giornata anche l'associazione Fare Verde di Campobasso che ha coinvolto i bambini del secondo circolo didattico di Via Crispi. Nell'occasione sono stati piantati diversi nuovi alberi messi a disposizione dalla forestale e sono stati inaugurati ufficialmente i due murales realizzati da Fare Verde con il coinvolgimento dei piccoli scolari della scuola dell'infanzia. Apriamo la pagina sportiva ancora novità in casa Termoli Marcello Casu è il nuovo allenatore dei giallorossi il tecnico sardo sarà affiancato da Niccolo Bellomo che svolgerà il ruolo di preparatore dei portieri mentre Alfredo Padovano sarà il nuovo direttore sportivo vediamo come anticipato due giorni fa in esclusiva da Molise TV in casa Termoli c'è stato un altro cambio di panchina infatti la squadra giallorossa è stata affidata a Marcello Casu ex Gaeta ex Grottaglie che questa mattina ha già diretto il suo primo allenamento al Cannarsa non è certo questo l'unico cambiamento che il presidente Calarco ha voluto fare per dare un segnale forte ad un ambiente che ha attraversato una settimana difficile dopo lo sciopero dei giocatori che hanno disertato la classica seduta di allenamento del martedì il tecnico sardo in questa nuova avventura sarà affiancato da Niccolo Bellomo che fungerà da preparatore dei portieri mentre l'incarico di direttore sportivo è stato affidato ad Alfredo Padovano per Bellomo giovane di prospettiva e con un trascorso nelle giovanili del difesa grande quella del Termoli è una grande occasione per lanciarsi in palcoscenici più importanti Alfredo Padovano invece una garanzia del calcio dilettantistico nazionale con diverse esperienze nel girone campano della Serie D decisioni queste maturate dopo l'incontro che la società ha svolto a Cassino in cui si è fatto il punto della situazione con la decisione di ripartire da zero con una nuova guida tecnica e un nuovo entourage Calarco fa sul serio ed è pronto a rilanciare il Termoli infatti dopo queste novità a livello di organigramma societario per dicembre si prevede un calciomercato scoppiettante con l'obiettivo principale di allestire una rosa che possa salvarsi con tranquillità per poi ripartire l'anno prossimo con un progetto più ambizioso ora però il presente si chiama Civitanovese i giallorossi in un canarsa deserto a causa della squalifica del campo dopo i fatti di scoppito dovranno provare a vendere cara la pelle contro un avversario in grande spolvero e tra i protagonisti assoluti di questo campionato e vediamo ora nel dettaglio gli incontri dell'undicesima giornata del campionato di eccellenza Treppini Sporting Matese Gambatese Avenafro Cliternina Casanovo Monterotaro Esernia Compensorio Vairano Calcio Dauna Riccia Vasto Girardi Rocca Ravindola Fornelli Roseto Sesto Campano Sant'Eliana Montaquila vediamo ora gli incontri dell'undicesima giornata del campionato di promozione Alife Montenero Campo di Pietra Frentania Castel Mauro Toro Petacciato Macchia Cerce Maggiore Spinete Real Prata Pietra Monte Corvino Real San Martino Torre Magliano Ripali Mosani Vinchiaturo e in casa Castel Mauro i tre punti strappati al Montenero hanno dato fiducia per il proseguo del campionato ora si pensa allo scontro diretto con l'Ermes Toro vediamo il Castel Mauro è pronto a ripartire dopo la buona prestazione di cuore e determinazione di domenica scorsa contro il Montenero una vittoria quella contro il Rosso Blu che ha ridato entusiasmo alla compagine Castel Maurese la settimana ci siamo allenati bene il mister insieme ad altri ragazzi comunque altri ex della squadra ci credavamo e fortunatamente ci siamo riusciti eravamo venuti qui comunque per fare punti un punto ci andava bene però tre punti sono più che buoni avete tirato in porto una sola volta avete fatto gol il Montenero ha creato tanto e non è riuscito a segnare da una parte siamo stati anche abbastanza fortunati la partita l'avevamo impostata cioè su palla a pedalare perché comunque erano nettamente più forti sulla carta sapevamo delle loro caratteristiche e quindi è stata una tattica vincente qual è l'obiettivo del Castel Mauro in questo campionato? ma prima di tutto pensiamo a salvarci poi tutto quello che viene ben venga domenica prossima che partita sarà? domenica giochiamo con una squadra l'Ermestoro che comunque c'è milita nella nostra c'è nella bassa classifica come noi i tre punti sono quasi obbligatori anche perché almeno smuove un po' la classifica cerchiamo di risalire ora il Castel Mauro non deve vanificare quanto di buono fatto domenica scorsa e cercare di superare l'Ermestoro avversario diretto alla corsa salvezza e restiamo sul Castel Mauro la società del presidente D'Angelo è vigile sul mercato alla riapertura delle liste manca ancora un po' ma i bianco-rossi sono alla ricerca di un centrocampista di esperienza e di un portiere in particolare quella del numero uno è quasi una priorità visto e considerato che Esposito dovrà sottoporsi ad un intervento a tal proposito il nome che circola è quello di Primiano Sedili attualmente in forza allo Spinete il numero uno che per la categoria grandissima esperienza potrebbe tornare a vestire il bianco-rosso il discorso però verrà affrontato nei dettagli alla riapertura ufficiale delle liste ancora top secret il nome del centrocampista che secondo i ben informati ha già giocato in categorie sarebbe la classica pedina in grado di garantire una marcia in più e questa era la nostra ultima notizia vi lascio alle previsioni del tempo grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Previsioni del tempo per sabato 22 novembre l'alta pressione viene solo a tratti insidiata da un flusso di correnti in quota dai quadranti settentrionali ne consegue una giornata in gran parte soleggiata su Puglia Basilicata e Molise salvo blandi annuvolamenti sparsi temperatura in ulteriore lieve diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni nei massimi ventilazione moderata di maestrale in calo con mari da mossi a poco mossi Campobasso minima 4 massima 12 gradi Isernia minima 6 massima 15 gradi Termoli minima 11 massima 16 gradi il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso a 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 Grazie a tutti.